Bella raga con tutto questo stile un po' tribale vi volevo dire che alle 18 sono in live anche oggi sul mio canale YouTube Vi aspetto per giocare insieme sui server privati di Fortnite Tra l'altro nella live di ieri volevo ringraziarvi perché ho controllato soltanto oggi ma siete stati in 8000 supporter in più Sicuramente sarà stato anche per la skin in regalo ma comunque grazie da il cuore perché ci siamo divertiti tantissimo Continuate a supportarmi Raga poi ieri sera non vi ho detto ma la live ha spaccato davvero Stamattina mi sono svegliato e ho guardato eravamo 20.000 più supporter su Fortnite Quindi mi avete ascoltato tutti ieri siete stati veramente dei grandi quindi voliamo a cifre pazzesche Vi avviso che voliamo anche lunedì in live sempre alle 18 ma oggi ovviamente spero già lo sappiate ci vediamo a Bologna al nerd show a partire dalle 15 Vi aspetto tutti lì portate qualcosa a tema se siete di Bologna mi raccomando Giuseppe ma cosa ti è successo? Non mi sono diventato Ma è un mostro Ma un mostro Ma un mostro Ma chi dovrà disegnare quindi gli altri dovranno indovinare nella chat dovrà raccontarlo a modo di storia quindi farci arrivare diciamo ma cosa perché sei incastrato Stefano tira dobbiamo andare a fare le foto Stefano tieni tieni ma perché vuoi uscire da dietro ma Stefano che cosa stanno dicendo oh non lo so neanche io ho il testo ci avete eeeh ci hanno provato